Il traguardo della maggiore età, ma guardando i numeri, la storia dello Iov sembra ben più lunga. Era il 22 dicembre del 2005, quando fu istituito con legge regionale l'Istituto Oncologico Veneto, compie 18 anni, diventando grande nel corso degli anni, grazie ad investimenti, ricerca scientifica, esperimentazione clinica. I dati 2023 appena presentati parlano di 9.000 pazienti in trattamento, 9.200 ricoveri, 874.000 le prestazioni specialistiche. La sfida è quella di attivare prestazioni che oggi non siamo in grado ancora di attivare, quindi pensiamo alla riattivazione del ciclotone, pensiamo alle strade del trapianto di Midollo e pensiamo anche all'integrazione che dobbiamo assolutamente fare sempre in modo più importante con le varie aziende ULS Venete per poter garantire ai nostri pazienti i percorsi di presa in carico adeguati nelle tempistiche, nelle tipologie di prestazioni. In questi anni l'OIOV ha attivato sette punti di lavoro dislocati tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Le sedi principali sono quella di Padova in via Busonera, poi Castelfranco nel 2017, la radioterapia di schiavonia e nel 2022 l'avvio della gestione della biobanca presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. In 18 anni sono stati ingenti gli investimenti in edilizia. L'ultimo stanziamento riguarda i lavori appena iniziati per la radioterapia di Castelfranco, circa 15 milioni di euro, ma le sfide non si fermano mai e guardano al futuro. Noi dobbiamo affrontare adesso delle sfide importanti per il futuro, in un'epoca in cui la tecnologia è diventata estremamente più sofisticata e questo comporta non solo l'acquisizione di nuove strumentazioni, ma anche di figure professionali, di ricercatori che non esistevano in passato, ricercatori che siano in grado non solo di lavorare nel laboratorio classico convenzionale a cui tutti siamo abituati, ma che capiscono anche come poter accedere ai nuovi strumenti informatici. Ad oggi allo Iov lavorano 1375 dipendenti.